Con l'avvocato Malinverni, presidente del Panathlon Club Vercelli, chiediamo il perché di questa serata. Perché si è voluta questa serata per ricordare questi mondiali 1982 di calcio? Abbiamo organizzato questa serata per ricordare i mondiali di calcio, ma per ricordare anche i vecchi campioni della Pro Vercelli e del Piemonte. Lo scopo allora è ricordare questi campioni, ricordare i mondiali, perché Piercesere Barretti è oratore ufficiale? Piercesere Barretti è un giornalista, scrive bene, parla benissimo, è competente, ha dimostrato un grande equilibrio, quale persona migliore potevamo scegliere? Certo, le attività future del Panathlon Club cosa c'è in programma, in prospettiva di qui a fine annata? Noi abbiamo un programma già a due riunioni prossime, naturalmente c'è un segreto assoluto su questo programma perché sono programmi che comunichiamo ai soci all'ultimo momento e credo che commetterei un'indiscrezione anticipando queste idee. In secondo luogo i programmi sono sempre anche condizionati dalla disponibilità delle persone.